Perché voto no? Non voglio che aumentino da 50.000 a 150.000 le firme per le proposte di legge di iniziativa popolare. Io voto no perché non voglio che chi ci amministra, il governo, abbia una delega pressoché omnibus. È come se dessimo per otto anni una delega all'amministratore di condominio con potere di eseguire i lavori che vuole. Lo fareste? Il condominio Italia è ben più importante. Io voto no perché voglio che 74 consiglieri comunali e 21 sindaci facciano il lavoro amministrativo per cui sono stati scelti dai cittadini. Io voto no perché non voglio che 74 consiglieri regionali e 21 sindaci abbiano un conflitto di interessi tra l'ente locale che rappresentano e lo Stato. Io voto no perché non voglio che 74 consiglieri regionali e 21 sindaci abbiano modalità e tempi diversi di elezione. Io voto no perché questo testo è stato scritto da un ridotto numero di politici e non dal Parlamento dopo una discussione attenta, come è avvenuto nella Costituente. Nel 1946 l'Assemblea Costituente è stata eletta con metodo proporzionale puro senza sbarramento. Il governo fungeva dal comitato di gestione senza interferenze nel processo di redazione della Costituzione. La riforma costituzionale di adesso invece è di iniziativa governativa. Io voto no perché non voglio che vengano limitate le leggi di iniziativa popolare. Vorrei che fosse ridotto il numero dei parlamentari, tutti, ma questo referendum non lo contempla. Anche io vorrei che fosse eliminato il CNEL. Basterebbe un semplice decreto. Io voto no anche per una questione di stile. L'importanza è assolutamente minore rispetto ai contenuti. Ma che è anche la cifra dell'onestà intellettuale dei costituenti della Repubblica italiana. La vecchia legge costituente diceva questo. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun comune della Repubblica per rimanervi esposto durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. Pensate quanto è importante in questo momento il vostro voto. Fatelo con saggezza.